Buongiorno da Giuseppe Recca, sabato 7 settembre, invitato dai componenti della Commissione Consigliare Sanità dal Sindaco Fabio Termine, è stato ieri a Sciacca il Direttore Generale dell'Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, un incontro che fa seguito ad una seduta consigliare in cui si è parlato anche di sanità. Il manager ha smentito voce di declassamento dell'Unità Operativa di Oculisti che ha valorizzato la ripresa dell'attività del reparto di ortopedia, ha poi elencato le attività svolte per sopperire alle carenze di personale in alcuni reparti. Mozione del Partito Democratico all'Arse per chiedere al Governo regionale di revocare tutte le ultime nomine della sanità in quanto decise dai partiti che compongono la maggioranza secondo la classica suddivisione del manuale Ciancelli. La mozione è firmata da tutti gli undici deputati allo scopo di impegnare il Governo a porre in essere provvedimenti necessari alla revoca delle nomine dei direttori amministrativi e sanitari recentemente concluse ed a predisporre un sistema che assicuri la serietà del processo di nomine e l'oggettività dei criteri di scelta delle cariche. TAR Palermo sospende procedura concorsuale indetta dall'Asp di Agrigento per incompatibilità di alcuni commissari. Si tratta del concorso pubblico volto alla copertura a tempo indeterminato di diversi posti vacanti nell'ambito di distinti profili professionali tra cui sette posti di tecnico sanitario di radiologia medica categoria D. Possono finalmente partire a sciacche i lavori di restauro della colonna votiva lungo il viale delle terme dedicate alle vittime del dirigibile francese Dick Smude. L'assessore Francesco Di Mino ha fatto sapere che ormai prossima all'apertura del cantiere la consegna dei lavori alla ditta vincitrice dell'appalto è stata fissata per il 16 settembre. Intervento di restauro finanziato grazie ad un emendamento al bilancio comunale proposto dai gruppi di opposizione votato all'unanimità dai consiglieri comunali. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso per il rischio incendi valido fino alla mezzanotte di oggi, zona più calda del Palermitano, dove sono previsti un livello di allerta classificato come arancione, una temperatura massima percepita tra i 36 e 37 gradi con rischio incendi e ondate di calore. Ma sarà così più o meno in tutta la Sicilia con temperature che non dovrebbero scendere sotto i 35 gradi. Comincia oggi al Museo del Carnevale la quinta edizione di Sciacca Comics, la fiera del fumetto della cultura pop, diventata un appuntamento di rilevo nel sud Italia per tutti gli appassionati. Il programma dell'iniziativa organizzata dall'associazione culturale Sciacca Musicarte 33 con il patrocino del Comune è ricco di eventi. Si comincia oggi pomeriggio alle 16 con lo youtuber Matiosk, poi il pop context, le visite all'area medievale, alla sala videogame. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.